No, questo si chiama Stato Mafia, guarda allo Stato. Come lo vuoi fare? Durano sul suono, tutto. 30 litri di benzina? Brucialo tutto. 30 litri di benzina salta in area. Durano sul suono, neanche una briccia. Ciao mamma. Ma come dai? Vale. C'è anche un punto collegato ai carabinieri, i sensori d'acqua, perché non c'è acqua al subito. Danno subito in 35 minuti. Io vado a ringraziare quello che mi vede. E guarda la bombonella. Eh? Non è? Tanto le ha, mi f***a. E che lo senta poi, sto c***o. No. Lo troverà mai. Mai. Quello che ho preso io adesso, che mi sono tenuto io, lo troverà mai. Sai quello che vuol dire mai? Mi parlo con il c***o. Voglio andare con un mitra, che non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Io vado davanti alla casemma, faccio un articolo alto. Vado a finire tutti i tiri giornali. a finire tutti i tiri giornali. Siamo di canire andaggi. Ma va? Con cui il c***o sei? Tutti senza. Il problema è che certi con cui il c***o, prima del frico. Dopo a casa di Michele, sono scesi da un c***o addirittura, nero. Mai visto in vita mia. Ma va? E chi era? Neri c'è con l'acqua. Verso dove? Verso il cammino. Verso dove? D'夫abbiorni. E lo sacco? Lo sacco? Grazie a tutti